Buongiorno e benvenuti a Sette in punto. Questa è la settimana in inaugurazione sabato 13 maggio della 57esima Biennale Internazionale d'Arte a Venezia. Già la città è in fibrillazione, davvero Venezia è capitale internazionale e mondiale di arte contemporanea da quando esiste la Biennale. Non possiamo non parlarne anche noi e lo facciamo questa mattina con chi di arte contemporanea se ne occupa tutto l'anno e tutti gli anni. Perché qui con me questa mattina è Mauro Baronchelli, direttore operativo di Palazzo Grassi. Buongiorno e benvenuto. In realtà dovevamo parlare dell'attività del teatrino di Palazzo Grassi ma l'occasione è troppo succulenta perché Palazzo Grassi in realtà è punta della dogana di proprietà di Messier Pinot. Sono un po' il tempio dell'arte contemporanea a Venezia, il famoso chilometro lungo dell'arte contemporanea che poi sfocia nella Biennale d'Arte. Tra l'altro inaugurato proprio da inaugurata da pochissimo una unica mostra in due sedi, una personale di Damien Reist. Quindi una risonanza, un prologo della Biennale d'Arte che ha avuto una risonanza internazionale. Sì, devo dire che ce l'aspettavamo ma effettivamente quello che sta succedendo con questa mostra è un richiamo mediatico e di pubblico sicuramente importante. L'artista non ha tanto bisogno di presentazioni per chi segue l'arte contemporanea perché è sicuramente tra quelli più noti, più discussi, più provocatori e più che fanno parlare di sé. E il fatto che per la prima volta entrambe le sedi, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, siano state dedicate a un unico artista per un progetto assolutamente inedito. Quindi tutte quante le 180 opere che sono esposte tra Palazzo Grassi e Punta della Dogana non sono mai state messe in mostra in precedenza. E per chi ha potuto vedere la mostra si tratta anche di un progetto inedito dal punto di vista proprio del concetto di mostra che propone. Quindi tutti questi elementi hanno contribuito effettivamente ad accendere i riflettori su Palazzo Grassi e Punta della Dogana e siamo molto felici che sia successo ovviamente. Una mostra sorpresa perché sorprende anche l'appassionato di questo specifico artista che si aspettava magari qualcosa di consono alle sue linee. E invece in realtà l'incredibile anche in quello che propone questa volta, ha cambiato, se vogliamo, in quelli che sono gli stilemi che lo caratterizzano, però ha cambiato proprio approccio perché è tutto un mondo di fantasia, di vero o falso, è tutto un gioco atto a sorprendere anche nella magnificenza di certe sculture. Sì, sicuramente è stato in grado quest'artista dopo un come dire di progettare il suo ritorno diciamo sulla scena dopo un periodo in cui ha preferito non esporre lavori nuovi in una maniera assolutamente innovativa rispetto a quelli che erano, i suoi lavori precedenti, quelli che l'hanno reso noto, quelli che l'hanno reso celebre. E questo sicuramente dal punto di vista delle tecniche, dei materiali. Per quanto riguarda i temi trattati invece bisogna dire che c'è nella completa novità di questo progetto, però anche se lo si guarda con più attenzione ritornano in qualche modo i temi chiave di Demian Neurast, il rapporto col tempo che passa, il rapporto tra l'originale e la coppia, il rapporto tra l'arte e l'immaginario comune, l'immaginario pop e invece quello che sono gli stilemi che appartengono più alle forme d'arte più riconosciute all'immaginario complessivo. Palazzo Grassi, Punta della Dogana, si diceva due, Palazzo Grassi quasi da sempre, Punta della Dogana, quando appunto l'intervento di Davando con Messie Pinot, Tempio dell'arte contemporanea e permanente, motivo anche di dibattito molto acceso in città, ma da qualche anno si è aggiunta un'altra sede di proposte culturali, di attività interattiva, che è il teatrino di Palazzo Grassi. Sì, esattamente, dal 2014 con un intervento di restauro sempre curato da Tadawando, finalmente la nostra istituzione, che appunto comprende due spazi espositivi come Palazzo Grassi e Punta della Dogana, può freggiarsi anche di questo spazio, che è un auditorium vero e proprio e è di fianco a Palazzo Grassi, era l'antico teatro di Verzura settecentesco, dove nella bella stagione venivano organizzate le rappresentazioni. Il programma, che cosa fate dal 2014 in questo auditorium particolare? Perché è un programma molto nutrito, molto intenso e anche molto autonomo rispetto alle proposte delle sale espositive. Sì, e questa è la cosa che in realtà lo rende così prezioso per noi, ma anche nel rapporto con la città di Venezia. Quindi questo spazio è, come dire, dedicato sia ad attività che promuoviamo noi direttamente e che quindi studiamo e sono in coerenza con le nostre attività espositive, con i nostri interessi. Quindi parlo soprattutto di videoarte, di proiezioni, di convegni, di incontri, ma al tempo stesso diventa anche un laboratorio con cui possiamo dialogare con quei soggetti veneziani, ma anche italiani, ma anche internazionali, che con noi promuovono e, come dire, progettano attività, che siano concerti, che siano festival di musica contemporanea, che siano invece giornate di proiezioni dedicate alla videoarte. Quindi questo, nello specifico, è proprio quello di cui ci occupiamo, cioè tutto a seconda dell'importanza e dell'interesse del progetto. Come mai un'attenzione specifica alla videoarte? È l'evoluzione contemporanea dell'arte contemporanea? È un'espressione parallela e abbinata? Perché sempre di più, accanto alla scultura, alla tela, abbiamo l'installazione, accompagnata dal video multimediale che lo raffigura, il video che diventa esplicazione, magari, della realizzazione dell'opera. Cioè, qual è l'evoluzione, visto che, essendo un laboratorio, credo che in qualche modo cerchiate anche di intercettare quelle che sono le espressioni artistiche in Europa e nel mondo, ritengo. Sì, il dibattito sulla videoarte è sempre un dibattito aperto, ma in termini positivi, perché c'è un, come dire, il tema su cosa sia cinema, cosa sia videoarte, o forse il fatto che non sia più importante dividere fra cinema e videoarte, ma semplicemente lavorare sull'interesse del progetto. Parte proprio dal fatto che la collezione di François Pinot ha anche una nutrita, come dire, disponibilità di video di artisti che poi nel tempo, durante le diverse mostre che sono state realizzate nel corso degli anni, sono stati mostrati al pubblico veneziano. A questa base, che è quella da cui, che è la nostra base di interesse, però si aggiungono le collaborazioni con prestigiosi istituzioni italiane e straniere, quindi sto parlando, per esempio, della Biennale dell'Immagine in Movimento di Ginevra, che ci portano, in qualche modo, le novità che vengono realizzate all'interno di questi festival specifici e che poi hanno nei nostri spazi una declinazione dedicata, quindi all'interno di questi programmi che andiamo a visionare all'interno di questi festival, insieme ai curatori decidiamo di scegliere una sezione, approfondire alcuni temi o lavorare su alcuni artisti che ci sembrano più interessanti. Come avviene appunto il lavoro del, chiamiamolo così, il comitato scientifico, che seleziona queste contaminazioni espressive che ci sono in giro per il mondo. Perché qui, sfogliando l'elenco di qualche iniziativa della stagione di quest'anno del Teatrino di Palazzo Grassi, leggo iniziative di progetti che unisce musica classica, jazz, musical, e soprattutto c'è questo dato che credo sia l'elemento fondamentale laboratoriale del Teatro di Palazzo Grassi, dove c'è un'interazione tra pubblico e artisti, dove tutti diventano un po' artisti e l'artista diventa pubblico. Può anche succedere, nel senso che una delle caratteristiche che ci contraddistinguono è il fatto che spesso lavoriamo con gli artisti contemporanei, quindi abbiamo la possibilità di invitarli, di averli tra di noi e quindi di accendere un dialogo tra loro e il pubblico. E è sempre interessante, sia per gli appassionati che per chi si avvicina all'arte contemporanea, magari con un po' di scetticismo, capire invece quali sono i meccanismi creativi che stanno dentro la testa dell'artista, per cominciare, ma poi anche nelle dinamiche produttive. E questo è sicuramente un aspetto molto interessante. E poi c'è questo lavoro che è molto, come dire, stimolante di valutazione di proposte che ci arrivano da soggetti con cui collaboriamo oppure di promozione di proposte al nostro interno partendo da stimoli o interessi. Quindi, per esempio, un mese fa abbiamo avuto una tre giorni dedicata a David Lynch, il regista, in occasione della presentazione del documentario che ne racconta in qualche modo il percorso biografico. Anche alla luce di quello che succederà ad ottobre. Anche alla luce di... Il massimo mistero, no? Del ritorno di Twin Peaks. Esattamente. E proprio in quel caso, per esempio, abbiamo deciso di organizzare una tre giorni che prevedeva la proiezione di questo documentario di Heart of Life sul personaggio di David Lynch, ma al tempo stesso anche una maratona notturna con la prima serie di Twin Peaks che ha avuto molto successo proprio perché abbiamo proiettato tutte le prime otto puntate della serie mitica del 91. Ecco, mi toglie una curiosità. Lei è giovane, quelli della mia età, insomma, sanno, se le ricordano quasi a memoria gli otto episodi di Twin Peaks. Che pubblico ha voluto partecipare a questa maratona notturna? Dei giovani che ne avevano sentito parlare in maniera mitica, etica, nostalgici magari della mia età, curiosi di vedere il sequel, come sarà, ma sapendo già che non ci sarà lo stesso effetto, poi per il filtro stesso, dell'individualità nel momento in cui si vive una prima volta? No, devo dire che una delle tre giorni che ha avuto molto successo ci ha dato particolare soddisfazione proprio perché il pubblico era molto trasversale, quindi ovviamente il pubblico dei giovani che è il pubblico anche universitario veneziano, quello curioso che non si fa mancare le proposte, come dire, accattivanti, ma al tempo stesso c'era anche un pubblico più maturo che è quello che sicuramente ha visto la serie nel momento in cui è uscita, che se la ricorda che ha avuto la possibilità di rivederla sul grande schermo perché poi questa è un'altra delle caratteristiche che ci contraddistinguono, quindi la qualità delle proiezioni che possiamo offrire è quella ovviamente di una dimensione cinematografica e quindi in qualche modo più attrattiva di quella solo da salotto. Se non ho capito male la missione, anche l'obiettivo, l'intento delle vostre iniziative è quello sì di proporre delle cose ma anche di valutarne la riflessione che certe proposte possono indurre nel pubblico. Adesso sono curiosa qual è stata, si è capito, avete capito perché Twin Peaks all'epoca fu così innovativo e perché oggi è ancora un valore e che cosa sarà a ottobre 2017 questo sequel? Così è una... Se avete fatto un'indagine sociologica perché è interessante. No, diciamo che con l'aiuto anche di studiosi che abbiamo invitato in quei giorni abbiamo fatto più un'indagine tecnica su quelle che sono le caratteristiche che hanno reso Twin Peaks così straordinarie. La qualità dell'immagine, il tipo di ripresa e anche il montaggio, anche la sceneggiatura. Sì, di fatto era la prima serie d'autore che è stata fatta molto prima che poi serie televisive che hanno lasciato il segno come The Wild o The West Wing oppure potremmo cominciare qui però stiamo parlando già degli anni 2000 e del 2000 in avanti. Poi la prima serie televisiva di quel genere è in chiaro? In chiaro. Senza accedere a canali specializzati perché oggi quel tipo di serie non sono più, nella tv chiamiamola generalista sono molto specifici e quindi si rischia di perdere magari una fetta di pubblico anche se poi attraverso la web tv in qualche modo uno li va a recuperare? Sì, era in chiaro e poi con contenuti in prima serata che non erano scontati comunque c'era Non era facile mandarle in prima serata? No, no, infatti rivedendola anche oggi come dire Beh, non era la Iuno però No, comunque era insomma era la media Un buon azzardo Sì, sì devo dire che ebbero coraggio al tempo perché sono anche rivista oggi ovviamente con la componente di grottesco che Lynch ci ha voluto inserire ma comunque è una serie che spaventa anche molto che può essere molto lasciare un segno sul Poi era anche ben costruita non c'erano dei cioè i passaggi non erano scontati che magari oggi nella fretta di voler fare qualcosa di quel genere si punta più sull'effetto speciale perché poi attenzione oggi ci sono gli effetti speciali nel 91 non è che fossero così sviluppati è vero anche se poi l'effetto più speciale forse della serie Twin Peaks per chi lo rivede oggi è la colonna sonora di Badalamenti che è una specie di mantra che poi se lo si sente per soli 5 secondi è impossibile togliersi dalla testa un po' come Profondo Rosso diciamo che si contendono sì sì senta altre iniziative che ci sono state e magari che ci saranno così lei parlava di pubblico composto da studenti universitari che sono a Venezia sono solo loro si avvicinano i veneziani come rispondono i veneziani quelli non dico conservatori insomma quelli residenti non ci sono veneziani conservatori no è chiaro che appunto il pubblico universitario ha molta attenzione per quello che facciamo e anche perché non dobbiamo dimenticarci il nostro punto d'orgoglio che tutte le iniziative praticamente tutte le iniziative che promuoviamo al teatrino sono a titolo gratuito quindi questo è anche come dire una ovviamente un incentivo per tutti quelli che hanno voglia di venire approfondire i nostri contenuti bisogna prenotare per accedere a seconda dell'iniziativa organizziamo la capienza massima sono 225 posti non sono neanche tanti no però appunto a Venezia è una città che non aveva sostanzialmente uno spazio di questa dimensione quindi la presenza del teatrino va a coprire anche dal punto di vista della dimensione fisica dello spazio una mancanza che forse c'era e poi devo dire che è molto soddisfacente anche la risposta del pubblico veneziano perché il teatrino ci ha consentito di lavorare con tutta una serie di soggetti della città che lavorano nella cultura e nella promozione della cultura a partire dai tre atenei universitari arrivando fino al conservatorio prima col teatro delle fondamenta nuove adesso con i vari come dire con tutte quelle realtà che a Venezia ci sono magari meno conosciute meno ufficiali ma che sono un laboratorio poi espressivo e artistico ce ne sono sono numerose sono molto attive quindi la presenza del teatrino ha consentito anche di realizzare insieme dei progetti e quindi di portare quel tipo di pubblico quel tipo di affezionati che magari nelle nostre mostre non vengono o vengono più con più fatica ci dà qualche altra anticipazione del programma come è strutturato? ma nell'immediato appunto avremo sabato il prossimo sabato una presentazione del libro di Roberto Cuoghi uno dei tre artisti che sono nel padiglione italiano curato da Cecilia Le Mani quindi anche su questo evento siamo molto contenti e c'è molta attesa perché appunto per la prima volta dopo tanti anni il padiglione italiano ha fatto una scelta ha scelto di concentrarsi su alcuni artisti e il fatto che Cuoghi presenti il suo catalogo ragionato da noi il giorno dopo l'inaugurazione del padiglione italiano è molto interessante e dimostra anche come la nostra volontà e disponibilità a lavorare con soggetti importantissimi come la Biennale in momenti caldi dell'attività dell'anno lei ha usato il termine ragionato ecco il teatrino di Palazzo Grassi vuole ragionare sulle proposte sull'offerta artistico-culturale e questa è un po' la vocazione perché appunto uno vede il padiglione Italia lo guarda poi magari assistere ad un dibattito che non sia il dibattito accademico oppure referenziale o autoreferenziale è bello partecipare anche scambiando magari le emozioni di quello che si è visto o le interpretazioni di quello che si è visto perché io vedo sempre un po' l'arte contemporanea come qualcosa che siccome non è stata ancora del tutto codificata dai critici blasonati lascia aperto a varie interpretazioni a vari viaggi che poi dovrebbe essere anche la linea che uno adotta verso tutta l'arte perché nessuno sa poi alla fine che cosa un artista voleva esprimere con quella tecnica con quel colore e con quel materiale ma devo dire che il nostro punto di vista è un punto di vista il più aperto possibile quindi questo penso che sia anche l'interesse e la ricchezza di questo spazio quindi ci sono i momenti molto come dire accademici tradizionali convenistici che magari organizziamo con gli atenei universitari per un pubblico non dico di soli specialisti ma sicuramente un pubblico molto abituato alla lettura di certi testi alla visione di certe mostre quindi in quel caso l'approccio è più tradizionalmente accademico ci sono invece i momenti di puro godimento estetico le proiezioni anche cinematografiche ultimamente abbiamo cominciato anche una collaborazione con la Cineteca Nazionale di Bologna che proseguirà anche nelle prossime settimane ci sono i momenti di dibattito di approfondimento che sono anche a metà diciamo tra il pubblico più di addetti ai lavori e invece quello più curioso che magari si avvicina all'arte contemporanea e poi appunto c'è il bacino degli studenti e dell'università che è sempre ovviamente un bacino vivace di persone curiose che hanno voglia di sono in un momento anche nella vita in cui sono particolarmente aperti alla conoscenza all'approfondimento e quindi questo diventa anche in collaborazione con alcuni docenti più interessati ai temi che proponiamo un momento sicuramente di scambio Messie Pinot sappiamo tutti che è più grande credo collezionista di arte contemporanea al mondo scelse Venezia qualche anno fa e incredibilmente non ha una sede la sta costruendo a Parigi una sede espositiva perché ha scelto Venezia? Perché Venezia poteva essere la vetrina giusta per l'arte contemporanea cioè è Venezia che ha scelto Messie Pinot o Messie Pinot che ha scelto Venezia? credo si siano incontrati a metà strada la vivacità che Venezia vivrà questa settimana che è la settimana di inaugurazione della Biennale in cui letteralmente è al centro dei riflettori di tutto il mondo dell'arte contemporanea dai collezionisti ai galleristi ai critici ai giornalisti ai direttori di museo agli appassionati quindi il potenziale della Biennale d'arte contemporanea è realmente un potenziale come dire esclusivo e che in qualche modo invoglia e sta continuando a portare nuove istituzioni per l'arte contemporanea sul territorio veneziano e questo è sicuramente una delle ragioni per cui François Pinot ha deciso di installare in qualche modo la sua collezione anche a Venezia al tempo stesso c'era il desiderio da parte di Pinot di trovare uno spazio che gli corrispondesse che fosse all'altezza dei suoi interessi e delle sue ambizioni e in qualche modo proprio in quel momento si è aperta la possibilità di un suo sbarco a Venezia e non se l'è lasciata a sfuggire la corrispondenza bionivoca tra Palazzo Grassi e Punta della Dogana una barca pronta per mettersi in navigazione Palazzo Grassi più porto sicuro c'è una valenza c'è un significato perché anche la ristrutturazione di quella di Punta della Dogana insomma a parte locali di un fascino incredibile perché poi hanno dato il là anche a recuperi di tutti i magazzini del sale che sono diventati di anno in anno aumentano atelier d'arte basta parlare basta pensare a Emilio Vedova ma si stanno moltiplicando le gallerie da quelle parti sì sono sicuramente due spazi come dire eccezionali in qualche modo complementari senza voler svelare nulla ma per chi volesse venire a vedere la mostra che è in corso può capire come il percorso curatoriale che è stato costruito abbia a che fare in qualche modo con la natura di questi due edifici quindi a Palazzo Grassi che è un palazzo nobiliare settecentesco l'ultimo grande palazzo costruito sul Canal Grande si è deciso di fare una scelta più rarefatta più preziosa dal punto di vista dei materiali mentre a Punta della Dogana che era lo spazio appunto della Dogana da Mar dove le merci arrivavano alla Serenissima e venivano controllate immagazzinate per poi essere distribuite si è deciso di avere invece un allestimento più denso più fitto che in qualche modo ha molto a che fare con quell'acqua che si vede sostanzialmente da ognuna delle sale di Punta della Dogana e il fatto che si è passati da un'esposizione antologica di vari artisti della collezione di Messie Pinot espressamente invece ad un artista a parte il legame particolare tant'è vero che proprio la prima mostra apriva con una opera di Damien Earth è un'evoluzione del rapporto di approccio espositivo con la città voglio dire avremmo delle prossime monografiche una nuova tendenza quella di avere delle monografiche specifiche visto che Messie Pinot prima ci ha mostrato un estratto della sua immensa collezione adesso diceva bene adesso che avete un po' capito com'è la mia collezione di volta in volta presento un qualcosa di strutturato con un progetto perché anche da un punto di vista dell'esposizione nelle mostre c'è un'evoluzione meno pezzi però con un con un filo conduttore con un racconto con un'emozione che non sia solo visiva un viaggio beh appunto la mostra di quest'anno è realmente allora sapere se era casuale o se è l'inizio di un nuovo approccio no devo dire che arriva dopo qualche anno in cui comunque le mostre monografiche soprattutto a Palazzo Grassi si sono cominciate a fare e anche con nomi molto importanti Rudolf Stingel Purs Fischer e lo scorso anno Sigmar Polk sì infatti mi stavo chiedendo se c'era questa è un percorso e devo dire che quella continuerà in qualche modo anche nei programmi futuri è prevista l'attenzione su alcuni artisti soprattutto nello spazio di Palazzo Grassi che più di questo si presta la mostra di quest'anno è in qualche modo un unicum perché è il collezionista che in qualche modo incrocia perfettamente il progetto dell'artista e quindi questo progetto per tante ragioni cioè c'è una simbiosi tra sì e in qualche modo anche dal punto di vista tematico gli spazi di Venezia di Palazzo Grassi è il relitto che riemerge con tutto il suo prezioso carico quindi sì è un'occasione che non in qualche modo così con un incastro talmente perfetto che credo difficilmente si potrà ricreare in futuro in questi termini però chi lo sa e per quanto riguarda l'evoluzione del teatrino di Palazzo Grassi e di queste proposte ma il teatrino adesso è a regime da un paio d'anni nel senso che ormai abbiamo trovato un nostro ritmo che è quello più o meno di un centinaio di appuntamenti all'anno sono pochi no sono sostanzialmente anche perché mi pare di capire che siano di spessore non sono facciamo il possibile però questo è più o meno il ritmo che ci siamo dati e che ha trovato sostanzialmente anche in modo un po' automatico una sua distribuzione nel corso dell'anno ci sono proposte per esempio la Casa delle Parole che è un'attività che realizziamo con un gruppo di lettori veneziani un'iniziativa partita dal basso che porta ogni mese sostanzialmente più di cento persone a volte centocinquanta a leggere testi in lingua originale su un tema che è stato predefinito quindi per esempio questa è un'iniziativa che ci accompagna da settembre fino a luglio è un nostro appuntamento ricorrente a cui siamo molto affezionati al tempo stesso altre proposte invece per esempio lo schermo dell'arte Film Festival trova la sua collocazione nel mese di marzo perché con è un continuo esercizio per la mente sì sì assolutamente ci si tiene in forno io non ho più tempo a disposizione perché teatrino in un teatro? 30 secondi era il modo in cui lo si chiamava era sempre stato chiamato il teatrino di Palazzo Grassi e quindi in qualche modo si è mantenuta la denominazione anche se sono cambiati i volumi fisici tradizione e innovazione sempre Venezia e Pinot contemporaneo potremmo dire credo che sia un riassunto io ringrazio Mauro Baronchelli direttore operativo di Palazzo Grassi adesso vi lascio a proposito di Biennale di questa 57esima edizione a Stefano Zecchi che è il curatore del padiglione Venezia un padiglione dedicato al lusso quel lusso che le maestranze le maestrie artigianali della laguna esprimono in città poi dopo la pubblicità altro ospite ed altro argomento grazie